L'orientamento di opera che prosegue già dal 2017 quando è stata la presentazione del nuovo restyling diciamo della collezione opera è quello di avvicinarci di più al mondo del moderno per questo le linee sono molto più semplici ma con dettagli derivanti dal mondo luxury. Il tratto distintivo dell'evoluzione di opera è sicuramente il letto Dorothy che è praticamente l'evoluzione del letto butterfly in quanto riprende le stesse dimensioni più o meno della testata butterfly che ci ha sempre contraddistinto sin dagli albori dopo il buon accostamento del tavolino sirano dell'anno scorso con l'accostamento di marmo e specchio abbiamo riportato su delle specchiere poi per quanto riguarda gli imbottiti abbiamo lavorato molto sui velluti e sulle collezioni di pelle quali Nabuc che dà un soft touch per quanto riguarda appunto gli imbottiti grazie! grazie! Grazie.